O mi aiuti o mi ammazzo, di Giorgio Scherbanenco. Sono ostetrico, ho 36 anni, mi trovo in carcere. Fra qualche settimana vi sarà il processo, forse sarò condannato a 5 o 6 anni. È quasi un anno che sono in carcere, oggi ci vuole molto tempo, ci sono troppi processi. Sono sposato, mia moglie ha 22 anni, mi ha dato due bambini. Mentre io sono qui in carcere da un anno, vive nella miseria. C'è suo padre, un povero operaio siciliano che la tiene con sé, ma che cosa può fare con la sua misera paga? Un giornalista è riuscito a intervistarmi qui in carcere. Ha chiesto la storia della mia vita, mi daranno un compenso molto alto e lo darò a mia moglie e ai miei bambini. Questa è la storia del mio delitto. Avevo quasi 30 anni quando cominciai. Venivano nel mio studio tante giovani madri, o anche madri anziane che volevano sapere se la gestazione andava bene. Erano tutte felici di aspettare un bambino. Venivano anche molte ragazze per sapere se aspettavano un bambino o no. E ne veniva ogni tanto anche, inevitabilmente, qualcuna che sapendo che avrebbe dovuto avere un bambino, mi chiedeva di aiutarla a non averlo. Queste ragazze le rimandavo subito indietro. Quasi le buttavo fuori dal mio studio, indignato e irritato. Poi arrivò lei. Era una ragazza piccola, magra, olivastra di pelle, nerissima di capelli. Una calabrese. La feci sedere davanti alla mia piccola scrivania di vetro. Scrissi come sempre sul cartellino il nome e l'indirizzo della giovane paziente. Poi le chiesi che cosa desiderava. Aveva degli occhi grandissimi. Non ho mai visto occhi così grandi. E furono questi occhi pieni di luce e di tristezza che mi impressionarono profondamente. Vorrei che mi visitasse, mi rispose, in un perfetto italiano ma con una voce densa di caldo meridionale. Forse aspetto un bambino. Vorrei sapere se è sì o no. Le sorrisi. Era una domanda che mi sentivo rivolgere molte volte al giorno e la invitai a svestirsi e a distendersi sul lettino ostetrico dello studio. Intanto le facevo qualche domanda e lei rispondeva precisa e puntigliosa. E anche con quegli occhi pieni di tristezza. Ma a parte le domande, appena fatta la visita non vi erano più dubbi. La ragazza aspettava un bambino da almeno tre mesi. E lei lo sapeva benissimo. E non era venuta da me per una conferma, ma per un'altra cosa. E me lo disse subito, nel suo limpido eppure meridionale italiano. Dottore, io non posso tornare in Calabria con un bambino. Lei lo sa come sono dalle nostre parti. Ho passato l'estate qui al nord con una famiglia piemontese di amici di papà. E c'era un ragazzo. Si coprì il viso con le mani. Un ragazzo in quella famiglia. E così è successa questa cosa. È stata colpa mia. Lui ha diciotto anni. Io sono maggiore di lui. Dovevo sapere che cosa poteva succedere. Si calmi, la prego, non faccia così, le dissi togliendomi i guanti. Le volgevo le spalle perché lei si rivestisse senza disagio. E mi tolsi dalla fronte lo specchietto rotondo con luce a pila per l'esame interno. Sapevo già che cosa stava per chiedermi e cominciavo a irritarmi. Lei deve aiutarmi, dottore. Se no, io mi ammazzo, disse lei appena rivestita. Lei sa come siamo a noi, meridionali. Non posso tornare laggiù con un bambino. Duramente, irritato, le dissi E perché questo giovane non la sposa? È con lui che deve parlare, non con me. Io sono soltanto un ginecologo, un ostetrico. Allora si mise a piangere. Stringeva forte la borsetta nelle mani. Dottore, è un ragazzo di 18 anni. Lui non voleva neppure. Sono stata io che l'ho provocato. Piuttosto mi ammazzo che costringerlo a sposarmi. Invece, le dissi con tono molto freddo, La cosa migliore è che lei si rivolga ai genitori di questo ragazzo. Lui la deve sposare, se è una persona onesta. Sono tutti onesti, la famiglia e il ragazzo. Ma sa come vanno queste cose. Non si sposa un ragazzo di 18 anni. E io devo tornare in Calabria, al mio paese. E non ci torno in queste condizioni. Lei mi deve aiutare, dottore. Altrimenti mi ammazzo. Mi stava in piedi davanti, piccola olivastra, Con i suoi nerissimi capelli. Lei torni a casa e racconti tutto a sua madre, le dissi. Sua madre l'aiuterà. Con la voce roca di disperazione, lei mi disse. Mia madre non mi può fare niente, Né tutti i miei parenti. Soltanto lei può aiutarmi. Io devo tornare al mio paese libera, E lei deve aiutarmi. Altrimenti mi ammazzo. Allora persi la pazienza. I suoi grandissimi occhi neri Mi davano un profondo senso di commozione. Ma dovevo dirle quello che le dissi. La prego basta, Altrimenti telefono alla polizia. Io mi ammazzo, dottore. Io mi ammazzo davvero, Disse con voce rauca. Io mi ammazzo se lei non mi aiuta. Mi ammazzo davvero. Premetti il pulsante che chiamava l'infermiera, Senza risponderle neppure. Ero irritato, furioso. Guardi che se lei non mi aiuta, Io mi ammazzo, Lei ripetè. Stava in piedi davanti a me, Rigida come una statua. Ancora non le risposi. Mi facevo una pena infinita. Ma che cosa potevo fare? Entrò l'infermiera. Le dissi, Accompagno pure la signorina. Guardi che se lei non mi aiuta, Io mi ammazzo, Ripetè la ragazza, Anche davanti all'infermiera, Con quel fisso sguardo nerissimo. Mi ammazzo davvero. Non le risposi. Dissi all'infermiera, Il prossimo paziente. Io mi ammazzo, Disse la ragazza. Non l'ascoltai neppure. Tornai dietro la scrivania, Aspettando l'altro paziente. La ragazza calabrese, Che aspettava un bambino, Uscì dal mio studio. Come venne ricostruito, Poi dalle indagini di polizia, Entrò nel vicino caffè, E beve un'aranciata. Poi chiamò un taxi, E si recò al suo albergo. Era un grosso albergo, Alla periferia della città, A venti piani. Lei aveva una piccola stanza, Al diciottesimo piano. Vi soggiornava da pochi giorni, Prima di tornare al suo paese, In Calabria. Si fece dare dal portiere Dell'albergo della carta da lettere. Si chiuse nella sua stanza, Al diciottesimo piano, E scrisse una lettera, A me. Una lettera che io ho letto, Ma che è in mano alla polizia. Dottore, Lei solo poteva aiutarmi. Le ho detto che se non mi aiutava, Mi starei ammazzata. Lei non mi aiuta, E allora io mi ammazzo. Mise la lettera sotto il paralume, Sul comodino. Spense le luci della bella stanza d'albergo. Apri la finestra che dava da diciotto piani d'altezza, Su una grande piazza. Forse respirò a fondo per la paura di morire. Poi il suo tetro coraggio fu più forte di tutto, E si buttò giù. Cadde prima su un albero, Poi rimbalzò urlando dall'albero Su un distributore di benzina, Vicino al benzinaio che stava facendo il pieno a una Giulia. Io leggo poco i giornali, Così non seppi nulla al momento di questo atroce fatto. Ma la sera dopo, Venne la polizia a interrogarmi. Una ragazza, Il poliziotto mi disse il nome, Ma qui non posso far nomi, Si è suicidata, Gettandosi dal diciottesimo piano di un albergo, E ha lasciato una lettera indirizzata a lei. Questa lettera. Mi mostrarono la lettera, Ma il poliziotto la tenne in mano lui e me la lesse. Dottore, Lei solo poteva aiutarmi. Le ho detto che se non mi aiutava, Mi sarei ammazzata. Lei non mi aiuta, E allora io mi ammazzo. I due poliziotti mi guardavano con diffidenza. Perché la ragazza le ha scritto questa lettera? Spiegai il perché. Era una delle tante pazienti Che era venuta a farsi visitare nel mio studio. Le avevo detto che aspettava un bambino, Che andava tutto bene, Ma lei mi aveva detto che non voleva il bambino, E che era venuta da me apposta per quello. E se io non l'avesse aiutata, Si sarebbe ammazzata. Allora io l'avevo mandata via Minacciando di chiamare la polizia Se avesse insistito. E la ragazza, Allora, Si era ammazzata davvero. Bene, Dottore, Mi disse uno dei poliziotti. Venga con noi all'obitorio. Andai all'obitorio con i poliziotti. Sono medico. Sono stato nelle stare di anatomia E ho visto operazioni anche gravissime. Ma bisogna immaginare Che cosa succede di un povero, Fragile corpo umano Quando cade dal diciottesimo piano di un palazzo. Guardai la povera cosa che restava Sul tavolo di marmo dell'obitorio E riconobbi dai grandissimi occhi Che era lei Quella che mi aveva chiesto aiuto E che io non avevo aiutato E che allora si era uccisa. Sì, È lei Disse ai poliziotti. Poi mi lasciarono libero E tornai a casa. Benché medico Mi sentii male. Se io avesse aiutato la ragazza Lei sarebbe stata ancora viva. È vero che io non dovevo aiutarla Che avevo fatto bene a non aiutarla Perché la legge e la morale lo vietano. Ma il fatto era che la ragazza si era uccisa Mentre se io l'avesse aiutata Sarebbe stata ancora viva. Per mesi e mesi stetti praticamente male. Anche se continuavo il mio lavoro All'ospedale Alla mutua Nel mio studio E nelle visite a domicilio Ero completamente sconvolto. Avevo sempre nella mente La visione di quei due occhi grandissimi E la voce Dolce, infantile Con tono leggermente meridionale Che mi diceva O lei mi aiuta, dottore O io mi ammazzo Era stata un'esperienza orribile Anche se sono medico Sono forse troppo sensibile E ci volle molto tempo Prima che riuscissi a dimenticare veramente Molto tempo E anche Marta Marta era un'infermiera Del reparto ostetrico Di uno dei due ospedali Dove lavoravo E dove andavo esclusivamente per i parti Insieme con una piccola suora Dal viso pieno di lentiggini Che chiamavano per scherzo L'irlandese Ogni mattina lavoravamo A quattro o cinque parti E venivano alla luce Quattro o cinque bambini E la suora irlandese E Marta Erano felici di quel lavoro E le mamme Appena l'effetto della narcosi Passava E vedevano il loro bambino Si mettevano a piangere E mi dicevano Dottore Grazie Grazie Un giorno Per caso Facemmo colazioni insieme Nel ristorante dell'ospedale Marta e io Poi ci siamo visti altre volte La scusa Era che facevamo colazioni insieme O che le offrivo un passaggio Quando l'autobus Che portava a casa Marta Tardava E allora io li invitavo Nella mia modesta utilitaria Marta aveva allora 20 anni È una siciliana Venuta a lavorare al nord Ha una sfumatura di siciliano Nel suo parlare Ma ha un fisico da svedese È alta Bionda Gli occhi di un grigio castano L'ho sposata tre anni fa Ho avuto due bambini da lei Uriele e Vieri Ero l'uomo più felice del mondo Con questi due terribili maschietti Il mio Uriele e il mio Vieri Quando Quando nel mio studio Arrivò quella ragazza Era vestita tutta di rosso Il palto L'abito sotto Le calze Le scarpe La borsa Tutto lo stesso tono di rosso E i capelli lunghissimi Erano di un nero assoluto E gli occhi Questo richiamò la mia Memoria Erano molto grandi Molto molto grandi Il suo sguardo metteva quasi a disagio Sedetti davanti alla mia scrivania E cominciai a riempire il solito cartellino La ragazza mi disse che pensava di attendere un bambino E che voleva una conferma da me Ancora prima che mi desse i particolari E ancora prima che la visitassi Solo guardandola Capii che attendeva un bambino Vi sono dei capillari Alle tempie delle donne che attendono un bambino Verso il terzo mese Che hanno una colorazione più intensa del normale Ero certo già prima di visitarla Che aspettasse un bambino Comunque la invitai ad andare dietro il paravento A svestirsi E mentre mi mettevo i guanti Le indicai di mettersi sul lettino ostetrico Mi misi alla fronte lo specchio luminoso E iniziai la visita Mi bastarono pochi secondi E non poteva esserci alcun dubbio La ragazza attendeva un bambino Si rivesta pure Le dissi Mi tolsi i guanti Mi tolsi lo specchio luminoso dalla fronte Sedetti dietro la scrivania E cominciai a scrivere una breve ricetta Per la cura della gestazione Ecco Faccia queste iniezioni Disse alla ragazza Va tutto bene Lei ha un organismo perfettamente sano E il suo bambino sarà sanissimo La ragazza in piedi Dall'altra parte della scrivania Davanti a me seduto Disse Dottore Non è questo che voglio da lei Non risposi nulla Avevo già compreso E avevo paura Gli occhi della ragazza Mi facevano paura Così fissi Impietriti Io lo sapevo che aspetto un bambino Lei continuò Non avevo nessun bisogno Della sua visita Io sono venuta da lei Soltanto perché lei mi aiuti A non averlo Mi alzai Vada pure Le dissi E schiacciai il bottone Per chiamare l'infermiera Io vado Ma se lei non mi aiuta Mi ammazzo Stava rigida davanti a me I suoi grandi occhi Grandi Grandi Quasi quanto quelli Dell'altra ragazza La calabrese Mi fissavano con estrema decisione Io vado Ma appena uscita di qui Mi uccido Ho nella borsetta Una rivoltella Eccola Apri la borsetta E mi mostrò Una beretta Calibro 7,60 Non scherzo Dottore Disse la ragazza Lei è la mia ultima speranza O lei mi aiuta O mi uccido Anche se faceva caldo Nel mio studio Io avevo freddo Cercai di dimostrarmi calmo Era evidente Che la ragazza Si sarebbe uccisa Se io non l'avesse aiutata Aveva la stessa decisione Nello sguardo E nella voce Dell'altra Che si era buttata Dal diciottesimo piano Di un palazzo Rivissi Quei momenti lontani I grandi Grandissimi occhi Della ragazza calabrese Che mi implorava Di aiutarla E siccome io avevo detto di no Lei si era buttata Da un grattacielo Sfracellandosi Prima su un albero Poi vicino a un distributore Di benzina Dove un benzinaio Stava facendo il pieno A una Giulia Poi l'avevo veduta Sul tavolo di marmo Dell'obitorio Nella frigocella E mi sentia ancora male Anche se erano passati Degli anni E la ragazza Che avevo davanti a me Era evidente Aveva la stessa decisione Di uccidersi Di quell'altra Che si era effettivamente uccisa E solo io Potevo salvarla Cercai di controllarmi E di guadagnare tempo Si sieda Dobbiamo parlare Le dissi No Lei disse Stringendo forte Contro il petto La borsetta Con la beretta 760 O lei mi dice sì O mi dice no Se mi dice sì Bene Se mi dice di no Io esco di qui E mi uccido C'era nella sua voce Una profonda disperazione Una disperazione assoluta E non tenti Di portarmi via La rivoltella O di chiamare la polizia Io mi ucciderò In ogni caso Se lei non mi aiuta Si coprì il viso con le mani E si inghiozzando Mi disse ancora Per favore Mi aiuti Per pietà Avrei voluto domandarle Per quale motivo Non voleva avere il bambino Che attendeva Ma a che sarebbe servito Avrei anche potuto Dirle semplicemente Se ne vada via Ma ero sicuro Che se le avessi detto così Si sarebbe uccisa Come si era uccisa L'altra ragazza La calabrese Il ricordo di quell'altra ragazza Che si era buttata Dal diciottesimo piano Mi sconvolse Se avessi detto di no A questa ragazza Anche lei si sarebbe uccisa Fu uno spaventoso attimo Di debolezza Ma le dissi Va bene Si prepari sul lettino Per uno di quei casi fatali Ne accade uno su diecimila Mi morì sotto le mani Lì nel mio studio Non fu per emoragia O per infezione Fu per semplice rilasso di cuore La ragazza era Debole di cuore L'emozione della situazione Insieme con la narcosica Dovetti farle Le dette l'ultimo colpo Nello stesso istante In cui mi accorsi Che la ragazza era morta Il telefono squillò Era mia moglie Con la sua voce Dalle inflessioni Dolcemente siciliane Mi disse Senti caro Sono qui in pescheria Ti andrebbero le sarde C'è il branzino Ma costa troppo Le sarde le mangiano Anche i bambini Con un ultimo sforzo Di volontà Mi controllai Si vanno benissimo Guardai la ragazza morta Sul lettino E deposi il ricevitore Avrei voluto essere morto io Pensai a mia moglie Ai miei bambini Alla fine della mia carriera Ma non c'era niente da fare ormai Sollevai di nuovo Il ricevitore del telefono E chiamai la polizia Non andai a casa quel giorno A mangiare le sarde Che mi aveva preparato mia moglie Da quel giorno anzi Non sono più andato a casa Sono qui in carcere Imputato di un reato grave Di cui mi riconosco Perfettamente colpevole Ma di fronte a quella ragazza Che mi diceva O lei mi aiuta O io mi ammazzo Come me l'aveva detto Quell'altra ragazza Che si era effettivamente ammazzata Non ho avuto la forza Di dire di no Sono colpevole Lo riconosco L'ho detto non solo al mio avvocato Ma anche al giornalista Che pubblicherà questa mia storia Mia moglie è venuta a trovarmi Due giorni fa qui in carcere Mi ha detto che i bambini stanno bene E che mi vuole ancora più bene di prima Attraverso il vetro Nel parlatorio del carcere Le ho visto gli occhi pieni di lacrime E ho sentito la sua voce Piero Ti amo ancora più di prima Io e i bambini ti aspettiamo Ho sentito il suo morbido accento siciliano Tu sei il padre dei miei bambini E il mio uomo E noi ti aspettiamo Questo ho detto al giornalista Che è venuto a intervistarmi in carcere E questo firmo Piero Salvoni Specialista in ostetricia Grazie a tutti